Johnnie Walker presenta Sono Eliminators In prima visione sabato alle 21 su Odeon Grundig vi offre Una notte all'Odeon Se credete che l'horror sia un gioco da ragazzi Accidento Se non avete paura dell'ignoto Se non avete mai provato il vero teatro Allora non avete ancora visto questo film In prima visione La casa Giovedì alle 20 e 30 Su Odeon Volete sapere come andare d'accordo tra padri e figli? Che succede? Va meglio Chiedetelo a Yves Montan e Isabella Janine Domani alle 20 e 30 su Odeon Poliziesco all'Italiano Domani ci sarà una rapina Chi sono? Sudamericani, sono in tre Abbiamo creato una squadra speciale con criteri nuovi Che rapporti avete voi con questa squadra speciale? Ufficialmente ne ignoriamo l'esistenza Poi c'è un arpa col pieno, vedo mezz'ora di tempo Agiremo come vogliono E faremo come vogliamo Uomini si nasce Poliziotti si muore Domenica alle 20 e 30 Su Odeon Ma che idea bizzarra sposare un benzinaio Se si sapesse a cascares Rozzo incolto e pasticcione Non si fuma durante il pasto Come al cinema Ma qualche volta mischiarsi con la plebe Fa bene allo spirito e al corpo Camillo Ma ti rendi conto di quello che stai facendo? E come noi in educazione sessuale c'ho dieci meno Enrico Montesano Silvia Dionisio Il marito in collegio Venerdì alle 20 e 45 su Odeon Lunedì Animals Dalla cronaca vera dei giorni nostri Allarme rosso Invasione di rane giganti Ce n'è dappertutto Giganteschi rosti americani Terrorizzano l'Inghilterra Un'ipotesi agghiacciante Diventata realtà Prox Lunedì alle 20 e 30 Su Odeon